C'è anche Luca De Filippo, figlio ed erede artistico di Edoardo, tra gli insegniti del premio Poerio Imbriani, consegnato questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, un riconoscimento istituito quattro anni fa in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, per tenere vivo il ricordo dei Poerio e degli Imbriani, famiglie illustri vissute a Napoli durante il risorgimento, che si sono distinte per profonda coscienza morale, passione patriottica e spirito di sacrificio. A consegnarlo è l'assessore alla cultura, Nino Daniele, che si è soffermato sul valore dell'iniziativa. Il significato del premio è chiaro perché è intitolato a una famiglia che ha svolto un ruolo fondamentale nel nostro risorgimento, ma direi nella storia intellettuale e civile di Napoli, esempio di grande generosità, di profondo attaccamento ai propri ideali fino al sacrificio. La giuria e le associazioni che lo promuovono sono tra le più prestigiose dal punto di vista culturale e poi coloro che nel corso del tempo sono stati insegnati di questo premio, che sono tra le personalità che più hanno con la loro attività e il loro impegno nelle diverse e molteplici attività del sapere, dell'arte, dell'impegno intellettuale hanno onorato e illustrato la nostra città. Nel corso della cerimonia hanno ritirato il premio Poerio Imbriani anche Daniele Marrama della Fondazione Banco di Napoli e il professore Aniello Montano. Particolarmente sentito il riconoscimento consegnato a Luca De Filippo, che da settembre dirigerà la nuova scuola di arte drammatica del Teatro Stabile di Napoli dedicata alla formazione di giovani talenti. Nella scuola che immagino io e che stiamo cercando di realizzare, prima di tutto si imparerà a recitare il napoletano perché anche questa è una memoria che gli attori napoletani devono assolutamente avere. L'attore napoletano è un attore con una marcia in più, un qualcosa in più rispetto al resto dell'Italia e lo dico con grande orgoglio. Un'altra situazione che io sto seguendo è quella dei ragazzi a rischio, che era una cosa che poi ha interessato Eduardo negli ultimi anni della sua vita, da quando fu nominato senatore a vita e dobbiamo anche loro tutelare in qualche modo.